Roger O'Donnell dei cure risponde a Paul Weller su Robert Smith, fottuto ciccione, con il suo rossetto e tutte quelle stronzate Anche lui ha la mia età, non è vero? È un coglione, cazzo. Non mi piace Tutto qui, lo prenderei a schiaffi, ha affermato Paul Weller in una recente intervista per il mensile britannico Record Collector, in cui ha preso di mira il frontman dei cure Robert Smith Alle parole non proprio eleganti dell'ex leader dei gem, ha ora risposto il tastierista della band di, Friday M in Love, Roger O'Donnell Attraverso un messaggio condiviso su Twitter, ora non più disponibile ma ripreso dall'NME, O'Donnell non l'ha fatta passare liscia a Weller dopo le sue dichiarazioni e, in difesa del suo compagno di gruppo, ha scritto, ho sempre pensato, come disse Spike Milligan, che le Grazie a tutti!